Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Gas spalancato, pieghe infinite e tanta passione. Questo è il MES, trofeo Moto Estate 2015. Riviviamo le emozioni della stagione appena conclusa e preparatevi ad un'emozionante serie 2016. MES, Moto Estate. Le moto tornano ad essere protagoniste su AutoMotoTV. MES vi aspetta venerdì alle 23.30 su AutoMotoTV.